Amici 3B Meteo, bentornato a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che nelle regioni settentrionali e sul versante adriatico vedrà pressione atmosferica relativamente alta quindi situazione tranquilla, invece al centro-sud nelle ore pomeridiane specie versante tirrenico si formeranno numerosi acquazzoni e temporali. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia dopo una mattinata tranquilla con cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio come vedrete tra poco si formeranno dei cumuli a ridosso delle zone montuose del centro-sud con sconfinamenti anche verso le coste del medio e basso tirreno e anche come precipitazioni dopo una prima parte della giornata tranquilla nel pomeriggio si formano acquazioni temporali nelle zone interne delle regioni centro-meridionali, eccoli ma con sconfinamenti anche verso le coste tirreniche, specie tra Lazio, Campania e sulle isole maggiori quindi in definitiva giornata di domenica che al mattino vedrà ampie zone di sereno nel pomeriggio invece ecco spuntare le acquazioni temporali, zone interne del centro-sud ma anche fascia costiera di Lazio, Campania, isole maggiori, Calabria, Golfo di Taranto e qualche breve piovasco sulle Alpi con questo è tutto per dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo